Mentre si definiscono i numeri definitivi, i partiti giocano la partita dei vinti e dei vincitori. E se i vinti parlano a spizziche e bocconi, gli esponenti delle coalizioni vincenti commentano e fanno pronostici. Tra questi Fratelli d'Italia, che sul dato nazionale supera il 4%, in Sardegna il 4% e a Sassari il 4,66%. Fratelli d'Italia è passata da 9 parlamentari uscenti a ben 50 parlamentari. Per quanto riguarda Sassari è un risultato buono, abbiamo raddoppiato i voti presi nel 2013. Anche a livello sardo siamo andati molto bene, abbiamo raddoppiato i voti presi in Sardegna. E devo dire che siamo anche soddisfatti perché abbiamo anche un parlamentare sardo. Come destra e come partito del centro-destra vogliamo dare, anche dopo i risultati delle politiche che ha visto questo successo importante del Movimento 5 Stelle, vogliamo dare quell'immagine di serietà che forse potrebbe essere utile anche contro la politica di 5 Stelle. Un dato così forte al Movimento che appare come una bocciatura al governo regionale e all'amministrazione Sanna. Per quanto riguarda la regione è stata bocciata totalmente, visto anche la sconfitta netta del Presidente del Consiglio regionale Ganau, è stata bocciata la politica sviluppata in questi anni dal centro-sinistra. Una politica lontana dai cittadini. Per l'amministrazione Sanna basterebbe pensare al disastro delle strade cittadine, al disastro per quanto riguarda le incompiute che abbiamo in città. Ci sarebbe da fare un elenco lungo e non basta con quei 10 secondi che abbiamo messo per l'intervista. Ora però si guarda l'appuntamento delle regionali e delle amministrative. Si guarda assolutamente, siamo prontissimi per la battaglia delle regionali e per quanto riguarda Sassari e anche delle comunali. Il partito si sta organizzando nel territorio, siamo fiduciosi di fare un bel risultato anche per le regionali.